Jack Horner, regista, noi facciamo film artistici. Il film che sta turbando il pubblico americano, frantumandone ogni tabù sessuale. Fantastico! Jack Horner ha trovato qualcosa di speciale nel giovane Dirk Diggler. Posso vederlo? Ti ringrazio. Facciamo la storia del cinema. Ok, ci siamo. Io voglio soltanto fare bene. Uno sconcertante affresco dell'America. Tra i favolosi anni settanta e gli effimeri anni ottanta. Ti piacciono le mie scarpe? Da un urlo! Che puoi aspettarti se sei il numero uno. Da un regista smisuratamente geniale. Ma come Napoleone quando era re? Insomma, la gente cercava sempre di sconfiggerlo. Senti, vinto, vattene! Un film audacemente provocatorio. È allucinante! Su un argomento sfudoratamente scandaloso. Lui è davvero speciale. Può non scopare violento o scopare delicatamente. È il migliore. Posso rifarlo se ti serve un primo piano. Boogie Nights. L'altra Hollywood.